Parole, 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 nuovo appuntamento, il nostro appuntamento quotidiano nel corso del quale ogni giorno per l'appunto approfondiamo una parola diversa della lingua italiana, ovviamente ascoltando anche i vostri suggerimenti. La parola scelta per oggi è grazie. Grazie è un sostantivo femminile plurale che viene utilizzato per ringraziare qualcuno, per esprimere la propria gratitudine, la propria riconoscenza. Dire grazie è liberatorio, è conciliante, è civile, ma è anche salutare. Questo lo affermano gli psicologi che dicono proprio che dire grazie apporta benestere perché rafforza le relazioni sociali, perché fortifica il concetto di sé rispetto agli altri e perché infonde fiducia e rispetto. Insomma, innesca un circolo virtuoso molto importante, soprattutto al giorno d'oggi. È infatti fondamentale insegnare ai bambini fin da piccoli a dire grazie. Questo perché? Perché insegnare ai piccoli a esternare la gratitudine significa incentivarli a comunicare le proprie emozioni, significa insegnare loro a investire sui rapporti sociali, sui valori sociali e ad essere persone migliori. Ecco, dire grazie non è soltanto un atto di cortesia, ma è una grande abilità sociale che spesso risulta difficile anche agli adulti. Spesso infatti gli adulti hanno difficoltà a pronunciare in maniera frequente e in maniera soprattutto sincera la parola grazie. Tante volte infatti si associa la parola grazie all'aver ricevuto benefici costosi. È quasi una conseguenza, un atto dovuto, solamente perché abbiamo ricevuto un atto di generosità fuori dall'ordinario, fuori dal quotidiano. In realtà è bello dire grazie anche per i piccoli gesti, anche per quelli che possono essere considerati banalità, ma che al giorno d'oggi hanno maggior valore. Questo perché? Perché la riconoscenza, bisogna comprendere veramente questo concetto, è un'emozione sociale che nasce dalla consapevolezza di essere beneficiari di continui atti di altruismo. Ecco, non diciamo grazie solamente quando riceviamo un regalo, un oggetto materiale, diciamo grazie nella quotidianità, anche per i piccoli gesti, anche per quelli che possono sembrare banali. Ecco, in realtà la parola grazie può essere la parola più comune del mondo, però ha una grande importanza, soprattutto al giorno d'oggi, quando in una realtà ormai piena di tecnologia, spesso facciamo fatica anche a parlare con le altre persone. Ecco, grazie può essere una di quelle parole che si può rivelare fondamentali in una giornata, ecco, può far gioire qualcuno, ma può far gioire anche noi stessi, riuscire a pronunciarla in maniera sincera. Grazie per essere stati con noi, questo appuntamento si conclude qui, ovviamente vi ricordo di iscriverci sulle nostre pagine social, Facebook e Instagram di Spazio Notizie Sicilia 24 TV, noi leggeremo le vostre parole, i vostri suggerimenti e saremo lieti di approfondirli insieme a voi. Grazie per essere stati con noi, parole parole parole, torna domani.